Taglio del nastro alla presenza dell'assessore regionale all'agricoltura della regione Puglia Leonardo Di Gioia di Agrilevante 2015 la rassegna delle macchine e delle tecnologie per le filiere agroalimentari del Mediterraneo che si svolge alla fiera del Levante di Bari fino al 18 ottobre. La rassegna conferma la propria vocazione internazionale attraverso la presenza di oltre 300 espositori ed una superficie espositiva di 50.000 m2 e circa 50 aziende di nazionalità estera provenienti dall'Europa e dal Giappone. Attesi numerosi visitatori esteri e delegazioni ufficiali di operatori economici dai paesi dell'Europa Mediterranea, dall'Europa Orientale, dei Balcani, dal Medio Oriente e dall'Africa Subsahariana che oltre ad esprimere una domanda crescente di tecnologie meccaniche rappresentano per le industrie del settore un mercato sempre più interessante. Per facilitare gli incontri d'affari tra ditte espositrici, operatori economici, Agrilevante inaugura in questa edizione 2015 un'area internazionalizzazione collocata nel padiglione 18 e strutturata con servizi di supporto e consulenza. Trattori, macchine operatrici, attrezzature per ogni tipo di lavorazione agricola saranno al centro degli incontri d'affari ma anche mezzi e sistemi per le attività multifunzionali e per la cura degli spazi verdi. L'evento può rappresentare in tutta l'area Mediterranea uno dei prossimi scenari per lo sviluppo dell'economia nel Medio Oriente e nei paesi del Mediterraneo agrilevante. Come è stato sottolineato in conferenza stampa dal presidente di Federuna Coma Massimo Goldoni rappresenta la piattaforma ideale per il rilancio del settore. Questo appuntamento, questo evento che noi organizziamo qui a Bari quest'anno è l'evidente dimostrazione dell'evoluzione che ha avuto la possibilità di far incontrare le agricolture di tutta l'area Mediterranea ma io tenderei anche ad allargare questo concetto. L'area Mediterranea, l'area dei paesi emergenti africani, medio orientali e asiatici. Abbiamo portato qui a Bari in questa edizione con la collaborazione di ICE e del Ministero di Sviluppo Economico la possibilità di incontrare 30 delegazioni ufficiali dai più svariati paesi del mondo con i nostri operatori, con i nostri costruttori. Sono in programma all'incirca un migliaio di incontri B2B nei quali si potranno avere dei contatti operativi tra queste realtà e queste esigenze e la nostra capacità di dare risposta alle agricolture di tutte le latitudini. Ci confrontavamo con il Presidente circa la straordinaria presenza di espositori e l'affluenza già importante in queste prime ore. Per il sistema agricolo avere una vetrina a livello regionale, ovviamente su base meridionale che consenta di verificare le innovazioni tecnologiche, che ci metta al cospetto dell'intero Mediterraneo e quindi diventi punto di attrazione di altre nazioni è una funzione essenziale. Quindi ovviamente la Regione si fa promotrice assieme a coloro i quali organizzano alla Presidenza della Fiera, alla stessa associazione dei produttori per dare maggiore corposità a questa iniziativa, per trarne il maggior beneficio, per avere la migliore innovazione appunto a disposizione.